Il mio nome è Mauro Dattis, sono membro del Comitato delle Regioni e provengo dalla Regione Puglia, Italia. L'Unione Europea ha bisogno di dotarsi delle infrastrutture per l'importazione del gas naturale. Questo per prevenire il rischio dalla dipendenza di solo alcuni importatori di paesi terzi, prevenire il rischio di carenza di approvvigionamento del gas per le nostre popolazioni e prevenire anche l'aumento dei prezzi del gas. L'Italia e la Regione Puglia non hanno abbastanza risorse naturali. Per questo la Regione Puglia, ma anche l'Italia, hanno bisogno di importare gas naturale. I casi di successo in Italia ci sono da questo punto di vista. La rete di distribuzione del gas, per esempio, è una delle reti più efficienti d'Europa.